Ciao, mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. Quanto dura il super bonus? E non parlo solo di scadenza. Le tempistiche per avviare i lavori, per verificare inizialmente la documentazione, per verificare se si può fare, quanto dura un cantiere. Ecco, questo ti parlerò oggi in base alla mia esperienza professionale e in base ai casi che mi sono capitati negli anni, perché comunque i lavori che si vanno a fare non sono nuovi lavori rispetto a quello che si è fatto finora. Prima però ti ricordo di lasciare mi piace al video, iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e di verificare i contenuti per gli abbonati che trovi nella playlist in descrizione. Ci sono dei contenuti che aggiorno settimana per settimana, quindi crescono man mano che si va avanti nel tempo, dove rispondo alle domande che mi vengono inviate via email. Quali sono le tempistiche per il super bonus? O per qualunque altro lavoro che riguardi un intervento su un fabbricato, su un'abitazione, un intervento edile, non so mai dove mettere l'accento. Ti farò una panoramica di quanto, qual è la tempistica media, in base al tipo di intervento, al netto di tutti gli imprevisti che ci possono essere, di tutti i casi particolari che ci possono essere. Ti farò una media, non prenderli per buoni come se fossero oro colato, ciò che ti dirò saranno le mie esperienze personali, che magari un altro tecnico ha percepito o ha avuto delle esperienze completamente diverse. Quindi io ti dirò la media di ciò che succede quando vai a fare un intervento, delle tempistiche che sono necessarie di quando fai un intervento, da un intervento semplice a un intervento più complesso, che può essere quello di demolizione e ricostruzione. Quindi le tempistiche che ti dirò potranno avere forti oscillazioni in base al singolo caso, in base alla tipologia di edificio, in base alla tipologia di lavori che andrai a fare, alle necessità burocratiche, alle necessità umane, alle necessità soggettive dei vari soggetti che hanno a che fare con il cantiere, compreso te, come titolare, committente. Al meteo, che influisce non poco per gli interventi che vengono fatti per i cantieri, e a eventuali pandemie. Abbiamo avuto anche questa esperienza. Una pandemia sconvolge completamente le tempistiche di un cantiere. Ecco, al netto di tutto ciò, con tutte le considerazioni che vanno fatte caso per caso, come ripeto, per ogni, su ogni video, andremo a vedere, ti dirò quali sono le tempistiche per avviare, terminare e concludere un cantiere super bonus. La prima fase è quello di verifica di fattibilità, studio di fattibilità. Quindi bisognerà fare un accesso agli atti, bisognerà fare delle verifiche eventuali sul posto con un rilievo, bisognerà studiare la documentazione, la storia dell'edificio, anche se la Cila Superbonus permette di presentare la pratica senza obbligatoriamente attestare lo stato legittimo e quindi dover necessariamente da parte del tecnico verificare che ci siano tutti i titoli e tutte le autorizzazioni che nel tempo sarebbero dovute essere state presentate, tutte corrette, e che lo stato finale sia conforme. Però nella maggior parte dei casi sarà necessario comunque o il tecnico stesso lo vorrà fare comunque per evitare problemi futuri al committente. Tutte queste verifiche, dipende da comune a comune, dipende da edificio ad edificio, potrebbero oscillare tra qualche settimana, diciamo 30 giorni, un mese, a qualche mese, due, tre mesi. Ecco, ho sentito anche di casi di accesso agli atti che sono andati avanti per sei mesi. Personalmente ne ho visti alcuni che da luglio 2020 sono stati poi rilasciati, nel senso l'accesso agli atti è stato poi consentito a febbraio 2021. Quindi facciamo due calcoli. Poi c'è tutta la fase di progettazione, di redazione dei titoli necessari, di richiesta di pareri agli enti competenti sovracomunali, di produzione della documentazione, degli elaborati tecnici, delle relazioni, di tutto quanto è necessario prima di presentare la pratica, che sia una scia o un permesso di costruire. Ecco, qui può variare di molto, perché una cosa, per esempio, a fare un intervento di sostituzione di una caldaglia, una cosa è andare a demolire, ricostruire, ristrutturare in modo importante un edificio anche dal punto di vista antisismico, fare degli interventi di efficientamento energetico importanti da tutti i punti di vista, le tempistiche, capirai da te, che possono essere molto variabili in questa fase di progettazione che avviene dopo la verifica di fattibilità, dopo lo studio di fattibilità e prima della presentazione della pratica. Anche qui potrebbe, nella migliore delle ipotesi, in tre, quattro, cinque settimane poter essere pronta la cila da presentare in comune. Si lo so, non ci vogliono quattro settimane per compilare una cila, però tutto quello che è nascosto allo studio, alla vista della singola documentazione, della mera documentazione cartacea che vedrai davanti, o file, quello che vedrai, c'è dietro tutto uno studio, un lavoro che necessita di tempo, di attenzione, di ripensamenti, di confronti con il titolare, tecnico, tecnici, eventuali già imprese alle quali ci si rivolge. Ci sono dei confronti, delle verifiche, delle verifiche in comune nuovamente con il tecnico. Non è sempre una procedura semplice o banale. Comunque, nella migliore delle ipotesi, tre, quattro, cinque settimane fino a qualche mese, anche qui due, tre mesi, quattro mesi, ci potrebbe anche stare. Questo, ripeto, fino ad ora, vado al netto di tutti le necessità che potrebbe avere ciascuno dei soggetti e anche dagli impegni che uno ha già preso. È chiaro che comunque all'inizio, quando ti affiderai al tecnico, ai tecnici, sarai già ti diranno quanti impegni hanno preso e qual è la tempistica che possono darti come attenzione. Se trovi il tecnico o anche le imprese che stanno con le braccia concerte ad aspettare te, fatti due domande. Poi si avviene i lavori. I lavori sono la parte più lunga. C'è tutta l'organizzazione che può variare di molto le tempistiche, l'organizzazione, la coordinazione tra i vari soggetti, tra le varie imprese, gli imprevisti dal punto di vista meteo, come ti ho detto all'inizio, tutta la fase di esecuzione necessaria, le tempistiche tecniche di attesa. Nel cemento armato, ad esempio, c'è da aspettare un tot per disarmare, per poter andare avanti, le tempistiche per eseguire gli impianti. Prima c'è una fase, poi c'è un'altra, poi c'è un'altra ancora. Ecco, bisogna aspettare e sequenziare in modo corretto il cronoprogramma, come si dice dal punto di vista della sicurezza del cantiere, è in continua evoluzione. Si prevede, ma è in continua evoluzione, anche in base, come ti dicevo, agli imprevisti meteo, all'approvvigionamento del materiale, che negli ultimi tempi è anche quello un problema, oltre ai costi. Recuperare le materie prime, il materiale, se c'è difficoltà o non c'è disponibilità, ecco che lì bisogna fermarsi necessariamente. Quindi le tempiste che anche qui, che ti dirò, sono stimate in base a una... a un'esecuzione, non dico perfetta, ma lineare del cantiere, che nel migliore dei casi, non parliamo proprio della sostituzione della caldaglia che ho detto prima, ma magari fai il cappotto, potrebbe essere due o tre mesi? Due o tre mesi di esecuzione pura? Fino ad arrivare a uno? Due anni? Negli interventi più importanti? Non a caso l'esecuzione dei lavori, dei titoli, ha un limite dall'inizio lavori di tre anni per terminare i lavori. Non a caso. Tre anni sono più che sufficienti, ma in molti casi potrebbero addirittura essere insufficienti se ci sono eventuali varianti in corso. Immagina di avere in corso una nuova idea che maturi, la presenti al tuo tecnico, il tuo tecnico la avalla. C'è da fare una variante, ecco che c'è da attendere, fare la variante in comune e poi proseguire con i lavori. E poi dipende da questa variante che cosa comporta anche dal punto di vista organizzativo. Capirai da te che ciò che ti sto dicendo, cioè tre mesi per un intervento semplice, ecco bonus, fino a uno, due, tre anni di un intervento completo di demolizione e ricostruzione che per assurdo potrebbe essere anche più veloce di un intervento di ristrutturazione importante senza demolizione e ricostruzione. Immagina di fare un intervento su un condominio dal punto di vista strutturale importante dove non puoi demolire e ricostruire. Ecco che è una ristrutturazione o una ristrutturazione di un immobile in centro storico o una ristrutturazione di un rudere che non puoi demolire e che deve andare ad intervenire a demolire a mano magari a mantenere alcune parti che non puoi demolire a fare delle riprese puntuali le tempistiche possono variare di molto e come ti ho detto due, tre mesi per quelli più semplici fino a uno, due addirittura tre anni. Ecco qui che mi chiederai allora ma le scadenze attuali che cosa ce ne facciamo? Perché le scadenze attuali sono al 30 giugno 2022 per le unifamiliari o per gli interventi nelle singole unità 31 dicembre 2022 per gli interventi sulle parti comuni dei condomini e per gli edifici composti da più unità di unica proprietà composti da due a quattro unità dove le pertinenze non contano in questo conteggio la scadenza è il 30 giugno o se si raggiunge il 60% il 31 dicembre 2022 comunque sono delle tempistiche sufficienti ancora sufficienti sto registrando ad agosto 2021 ancora sufficienti per alcune tipologie di interventi per alcuni comuni dove magari l'iter burocratico di accesso di verifica la progettazione è tutto molto più veloce ma potrebbero essere più che insufficienti per la maggior parte degli interventi sisma bonus ma anche ecco bonus importanti non sono sufficienti queste tempistiche quindi per questo si aspettano le proroghe a fine anno che si presume si spera che vadano a spostarsi avanti nel tempo come già lo erano il sisma più eco con le percentuali più alte che dal 2017 c'era una programmazione fino a fine 2021 5 anni per il sisma e eco al 70 75 80 85 quelle sono delle tempistiche che ti permettono a di avere una tranquillità di progettazione e di realizzazione dell'opera b la tranquillità di non perdere buone parti buona parte della spesa che potrebbe andare oltre la scadenza e che quindi non agevolerai con la percentuale quella più importante quindi te mi chiederai che cosa ce ne facciamo allora di queste scadenze attuali allora non vuol dire che uno deve rimanere lì fermo secondo me chi ha intenzione perché il mio motto è sempre quello non fai i lavori perché ci sono i bonus ma usi i bonus perché dovevi fare i lavori quindi vai a scegliere il bonus che più si adatta ai lavori che volevi intendevi fare ecco tu andrai dovrai secondo me comunque procedere e attivarti per iniziare almeno la fase di progettazione iniziale con il rischio che non venga prorogato ma comunque con il vantaggio di trovarti pronto nell'eventuale proroga di partire di lì a breve con tutta la tranquillità del mondo l'eventuale prorogato l'eventuale prorogato l'eventuale prorogato